E ciao amici di Gorizia TV, ecco qua con una nuova puntata, abbiamo Cristina, Nicola, Alessia, Alex, le coppie più belle del Priuli a Gorizia da Zanni, ecco qua Cristina a sinistra dei pesi, Nicola del Sagittario, poi abbiamo, ecco qua Cristina e Nicola, lei dei pesi e lui del Sagittario, qua invece abbiamo Alessia, un gioiello bellissimo, eccola qua, dei gemelli, lì una bellissima hostess, e lui, eccola qua, sempre bella, la grande Alessia, e lui invece un mister del 2012, salutiamo qua Cristina, ecco la coppia, le coppie, Alex dei gemelli, anche lui, una coppia che presto a fare un matrimonio, che siamo, bene, allora adesso andiamo avanti e andiamo a intervistare queste, queste belle coppie, che vengono direttamente da Udine, con chi lavori? Con chi lavori? Già, senti? Eh? Eh, dillo, parla forza, tanto io riconosco, avevo lavorato per te le Priuli, io, 5 anni, vorresti a TV? Tu cosa sei, con free? Eh? Ma come si dice, se ti mancherebbe, ti becchiamo bene, dai, eccole qua, abbiamo con noi anche quella che ti porta via al lavoro, bene, allora, direttamente da Udine, allora, partiamo con i quattro belli, allora, tu ti chiami? Alex, Alex, tu? Alessia, Alessia, un nome importante, tu? Nicola, Nicola e tu? Tu che lavori per la... Ah, una voce leggera, ma com'è? Lavori in TV, dovresti avere una voce potentissima, eh? Farai la balletta, forse? Eh? Dimmi di nuovo il nome? Cristina. Ah, come mia figlia, vedi? Come mai da Udine a Gorizia? Venite a mangiare la bianca. Lei è proprio da TV, eh? Eh, è vero. Eh, Alexia. Sai che abbiamo a Telepriuli, c'è Alexia, no? Sì, no, no? Ecco, una bionda, potente, no? Che io ci ho lavorato bene. Bene, cosa volete dire di questo posto? Diciamo Gianni, no? Cosa volete dire? Che io lo conosco, questo cristiano, eh? Lo conosco. Eh, noi teniamo sempre la bionda. Sempre? Sempre. Benissimo. C'è la bianca, le corruzioni, vabbè, il mio mato. Senti, ok, quando vengo a fare il vostro matrimonio? Il nostro matrimonio? Sì. Quando vengo, eh? Perché? Così? Non siamo neanche insieme, non siamo fatti. Ah, non siete niente, proprio. Siamo Arria, vuole di sapore. Vuole di sapore, di chi segno sei, scusa? Io? Che segno? Eh, gemelli. Gemelli, è possibile. Ah, no. Tu? Gemelli. Ah, proprio bene il connubio, bene. Il connubio. Vediamo lei che è timida. Vediamo. Tu cosa sei? Sì. Urco, è possibile che sei così? Sai che sono comandanti questi, no? Ma infatti l'oppolenza ingassa. Eh, proprio, eh? E tu invece cosa sei? Sagittario. Sagittario, come mia figlia, perfetto. Va beh, è un codificatore lui. Dà l'anima. È uno che mette le corde a lui. Dice, sei sicura? Sagittario, sì. Sagittario. L'ha detto... Sì, 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 l'uomo sagittario. L'uomo sagittario. Ah, che danno l'anima. E le donne, io conosco le donne. Ah, no, no, le donne sia una cosa. Ma l'uomo bisogna stare molto attenti allora. State attenti ai sagittari, vero o no? Eh? E a stare attenti ai sagittari. Occhio, l'uomo, sì. Quindi avviso a tutte le donne. A tutte le donne. Le specie che comandano, no. Eh? Le specie che comandano... Ah, non lo so. Ah, che sono guerriglieri, eh? Menano questi, eh? No. Buon, fate un bel saluto finale. Dai, uno, due, fetta, uno, due, tre, vai. Ciao. 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 Ciao.